Vendeva, come autentici, accessori riportanti un celebre marchio di cristalli che erano in realtà contraffatti. Un imprenditore di origine cinese, titolare di un noto emporio nel capoluogo piemontese, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Torino per contraffazione. La frode è stata scoperta in un market del quartiere di Nizza Millefonti, dove i finanzieri hanno rinvenuto oltre 220.000 accessori d'abbigliamento riportanti il falso logo del brand dei cristalli. Nel corso dell'intervento, inoltre, i baschi verdi hanno sequestrato circa 70.000 giocattoli esposti alla vendita, ma non conformi alla normativa vigente. Gli oggetti erano infatti sprovvisti di informazioni fondamentali per la tutela del consumatore, come le indicazioni circa la loro provenienza, le istruzioni in lingua italiana e le precauzioni d'uso di sicurezza che i bambini dovrebbero rispettare per giocare senza rischi. Tra questi, centinaia di accessori e costumi in vista della prossima festività di Halloween. Ulteriori 420.000 articoli vari sono stati tolti dal mercato per violazione delle norme in materia di sicurezza prodotti, perché venduti senza alcuna indicazione circa i dati dell'importatore e la presenza di materiali o sostanze pericolose. L'imprenditore dovrà ora rispondere all'autorità giudiziaria di frode in commercio e contraffazione. Rischia sino a quattro anni di carcere.